Fari Conti con l'Ambiente, conferenza internazionale di Indicators for a Better World, siamo con Simona Verità, parliamo dell'osservatorio della sostenibilità in San Marino. Sì, buongiorno a tutti, il progetto dell'osservatorio della sostenibilità di San Marino è un progetto nato alcuni anni fa che ha l'intento di mappare il livello di sostenibilità raggiunto dallo stato di San Marino per vedere quelle che possono essere gli sviluppi futuri e per poter anche indirizzare la politica a ottenere dei migliori risultati dal punto di vista della sostenibilità che può essere sia economica, sociale ma anche ambientale. Quindi durante il progetto abbiamo cercato di fare il punto della situazione, quindi abbiamo individuato alcuni degli indicatori principali perché uno dello scopo dell'osservatorio è quello di monitorare il territorio attraverso degli indicatori che possono essere per esempio la qualità dell'aria, il consumo energetico, il consumo dell'acqua ma anche alcuni indicatori che fanno riferimento alla sfera sociale che sono lo Human Develop Index che è un indice che misura la qualità di vita dei sanmarinesi. Grazie, grazie Simona, buon lavoro. Grazie, grazie.